Per fare la spesa lui Consegna Alimentare Per fare la sospensione Per fare la scuola Ehi, papà, sin un mal? Si, potessi. Melhori Per fare la scuola Per fare la scuola Sì, sì. Succa al viso la fuente ce l'ho buono la salviamo intanto come per salvare salva prima di tutto 8 ore per salvare quanto ci mette a salvare? ok ecco 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 cocco ha tutte le nuve per quanto da fare un gesto come ti fa fare amoreggiando vediamo un po amoreggiando ma qua è tornato a dormire ma che palle oggi ho giornata libera vado in bagno e a farmi un te ok io cerco di far trombare sui due stronzi ma che no aspettami ahahah non è un po' 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 io cerchio errete mmmm piedi l'intergeeeet guarda una punta aperta piedi 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 p piedi oh RAARGHH Io ciò che èato dalla corsa Voi, e dai Ah, ah, è solito. Ah! Oh, ma soca! E a sua mata? A voi sei, vlevis. Eh, woo! Ah! Eh, v'la patna! Evi? Hmm, se vu di nalla, vu... Eh, vladà? Ah, che cazzo. Consiglio, vantaggio o aspirazione? Voi, 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 voi. Beh, voi, voi. Voi, voi. Zakweb? 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 Voi, voi. Voi, voi. Voi. Voi, voi. Voi, voi. Voi. Voi, voi. Voi, voi. Voi, voi. Voi. Voi, voi. Voi. Oh? Grazie Oh, non ci riesce, eh? Marca miseria!